Io sono un amico come adesso, adesso fate come vuoi fare, a quei tempi se tu gli rispondevi male, ti cacciava fuori, chiamava fiduciare che sarebbe la presta, chiamava i genitori e ti sospendevano per un mese. Ma usavano punizioni fisiche per esempio? Non è. Punizioni fisiche le usavano a scuola? Sì, non è. Come funzionava? Ci mettevano i ricerciti sotto il ginocchio, la lavagna, il bacchettato non finiva, che scherzo. E' bello ma però, eravamo mal vestiti, i scarci, come se c'erano i scarci, come se si rompevano, cercavo di mettere qualche torno. E ho detto, oggi avete la mutua e avete quello che volete. Noi no. A me certe volte quando mi portano certi scarci, i butti, ma che c***o il butti? In aereo chiaramente. Col treno ci ho messo due giorni a me. Allora, col treno. Disegnavo l'auto, sapevo che partiva da lì e faceva capolino là. Hai capito che ti voglio dire? Sì, sì. Sapevo che aveva uscito questo posto, magari mi guardavo pure i palazzi, mi guardavo. E giravo qui dintorno, si parla. E' inglese perché, capiva americane che era. E' inglese perché. Allora, questo direttore della piscola veniva là a passare le scarpe da noi, da Petrocchi. Sono messo qua. E ci ha preso, mi ha preso a ben volere. Allora, io mi ricordo che capivano quali d'inglese o non inglese. Mi faceva, lui mi staccava discretamente l'inglese. Diceva, very nice you work, mi diceva a me. Diceva, queste parole qua mi ricordo. Diceva, London you like your work, mi diceva a me. E c'è una lontana che guadagno molti dalle. Nessuno. E mi diceva una volta. Insomma, una bella volta. Comincio quando? Allora, qualche cosa rimedi. Ma sospetto con la cosa del partito, o dei partiti, per meglio di te. Io non ho mai visto una via. A me è il governo. Come cazzo va a scrivere a Mancino? Io ti stavo a vedere che ho un mio nipote che scriveva la tema a certe volte e mi è venuto a ridere. Perché? Mancino, che te l'ho? Sei Mancino?